Partiti! In vantaggio Candiani Street davanti a Real Jam, Gordol Diume, Spacchito, Don Giustino ed Alpignano. Dopo 200 metri di corsa conduce Candiani Street davanti a Real Jam, Gordol Diume, Spacchito, Alpignano e Don Giustino. All'inizio della curva in leggero vantaggio Candiani Street davanti a Real Jam, Gordol Diume, Alpignano, Spacchito e Don Giustino. Poco prima dell'ingresso in dirittura Candiani Street e Real Jam conducono davanti a Gordol Diume e Spacchito. I cavalli entrano in dirittura. Con Candiani Street e Real Jam in vantaggio davanti a Gordol Diume, segue Spacchito, Don Giustino ed Alpignano. Passa Gordol Diume, davanti a Real Jam, Candiani Street e Spacchito e in vantaggio Gordol Diume davanti a Real Jam, Candiani Street e Spacchito. È facile Gordol Diume davanti a Real Jam e Candiani Street. Facile, facile e che quotone amici 2,49. Adesso che la corsa sia disputata, gran prestazione di Real Jam come ci aveva detto Piero, ma questo Gordol Diume è proprio molto, ma molto interessante. Potrebbe vincere il Pisa.